Irene Ficicchia, la donna scomparsa da Gela qualche giorno dietro, è stata ritrovata a Milazzo, in provincia di Messina, dalla polizia dopo alcuni giorni di ricerca e partite dai familiari. La 45enne che soffre di disturbi psichici non nuova a questi allontanamenti è stata rintracciata. Grande la preoccupazione da parte dei parenti che l'hanno cercata notte e giorno in collaborazione con le forze dell'ordine. Non si conoscono i dettagli del ritrovamento e neanche le modalità, i mezzi con i quali si è arrivata in provincia di Messina.